buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il training talent show coaching come sempre leggiamo il disclaimer e poi entriamo nel vivo del webinar i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da tic mille ed hanno carattere puramente educativo non costituiscono nessun incentivo di investimento chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi di conseguenza gli autori e tic mille non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di tic mille a meno che non sia stato specificato l'avvertenza sul rischio il training di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori le perdite possono eccedere l'investimento iniziale assicurarsi di comprendere appieno i rischi di curare attentamente la gestione del rischio questo web viene presentato da sottoscritto giuseppe cericola country manager italia tic mille e con me questa sera come sempre per il training talent show coaching marco d'andrea trader quantitativo ricordo questa iniziativa del training talent show coaching un'iniziativa voluta da renato de carolis quindi un percorso formativo che sta durando ormai da diversi mesi siamo se non sbaglio già al terzo mese quindi siamo partiti proprio dalle dalle basi e nei prossimi webinar questo è l'ultimo webinar conclusivo dove poi marco ci ci mostrerà l'ultimo argomento prima di entrare nel vivo della delle strategie che affronteremo nei prossimi webinar allora prima di parlare quindi prima di conoscere l'argomento che marco ci presenterà vi parlo un po di tic mille che un broker non di l'indesco con commissioni tra le più basse del settore spread a partire da zero abbiamo una forte regolamentazione della fca uk quindi i fondi sono segregati e custoditi e assicurati fino a 50.000 sterline non ci sono limitazioni su sulle strategie o sui profitti tutte le strategie quindi expert advisor strategie di arbitraggio chi ne ha chi più ne ha più ne mette sono comunque ben accette grazie alla velocità di esecuzione ultra rapida non avrete mai recuoto e c'è ovviamente anche la possibilità di essere eseguiti con un prezzo migliorativo rispetto a quello inserito come dicevo grazie ai numerosi server sparsi per il globo poi abbiamo un'ampia gamma di mercati quindi forex ovviamente sul forex poi indici azionari tra cui anche il fuzzimib bitcoin materie prime metalli preziosi inoltre e molti strumenti di di ausilio al al trading come auto chartist la vps il one click training e la demo limitata connessione fix api disponibile per quei clienti che hanno delle necessità particolari di training quindi poi abbiamo non abbiamo costi su prelievi e depositi e siamo tra i poker pochi broker comunque con regime dichiarativo ad offrire una assistenza come sulla dichiarazione del capital gain visto che marco se non sbaglio siamo anche a ridosso della dichiarazione dei del capital gain quindi marco tra l'altro oltre ad essere un bravissimo trader è anche un ottimo commercialista e quindi offre anche una consulenza per tutti quei clienti che di tic mil che vogliono comunque avere delle informazioni e dell'assistenza scusate in materia fiscale chiedo scusa questi sono i nostri server sparsi per il mondo questa è una comparazione delle nostre qualità di trading e commissioni rispetto a diversi competitor potete voi stessi comunque controllare queste queste informazioni dal sito di my fx book dove vedete che nella maggior parte del tempo e le i nostri spread incluse le commissioni sono tra le più basse dell'industria del forex potete provare marco ha già inviato in chat il link per aprire il conto con tic mil potete provare il conto di il nostro conto di prova da 30 dollari non è richiesta nessun nessun deposito potete provare questa le nostre qualità di training del conto pro e poi per qualsiasi informazione potete scrivermi a giuseppe chioccio la tic mil punto co punto uk allora io la presentazione del broker l'ho finita così nel frattempo sono vedo che sono entrate altre persone nella nella stanza e possiamo partire con l'ultimo argomento del delle strategie che poi marco andrà a presentare marco tu sei sei pronto sì giuseppe io sono prontissimo e quando vuoi iniziamo come dicevo noi marco siamo partiti un po dal da lontano noi abbiamo parlato delle delle basi proprio perché comunque gli iscritti sono numerose quindi abbiamo siamo partiti proprio dalle delle basi dal concetto di leva per poi affrontare altri temi importanti come anche la notura delle e riconoscimento dei vari pattern cercando sempre una un approccio statistico e oggettivo al training e potete poi ovviamente vedere tutte le registrazioni quindi adesso non andiamo a riparlare dei precedenti argomenti potete comunque vedere tutte le registrazioni sulla nostra pagina tic mil sul su youtube sulla nostra playlist in in italiano quindi nella precedente poi lezione noi abbiamo parlato di pattern appunto di definizione di pattern quantitativi e quelli classici di analisi tecnica eh adesso marco ci dirà il segreto per non bruciare il conto trading marco quindi lascio a te la parola grazie giuseppe quindi per ricapitolare comunque brevemente anche il percorso fatto fino ad oggi quello che comunque a cui tengo sottolineare che come avete potuto vedere non abbiamo parlato di analisi tecnica non abbiamo mai parlato di concetti detti ridetti e risaputi ma non perché comunque dei casi siano dei concetti che non vanno saputi assolutamente però lì già c'è comunque tanto materale online anche gratuito per la quale comunque dei casi non è a mio avviso intelligente farci dei corsi su perché comunque è repelibile a tutti ad oggi insomma grazie a internet possiamo accingere a tante fonti quello che comunque dei casi è mi ha fatto fondamentalmente piacere condividere appunto un percorso diverso e che c'è un po distinti come squadra dagli altri proprio per comunque avere fondamentalmente delle nozioni diverse dal solito quindi che vadano oltre la media mobile la trend line e soprattutto li abbiamo anche molto criticate queste strategie molto semplicistiche non perché per far trading insomma servano strategie più complesse o comunque difficili c'è complicarsi la vita assolutamente no ma assolutamente dobbiamo evitare quelli che io chiamo i quadri di picasso quindi prendere dei grafici cominciati a riempire di indicatori di oscillatori o comunque di varie linee di vario genere che poi portano soltanto a confusione a complicarle le cose piuttosto che invece andarla a semplificare quindi siamo partiti dalle basi e mi scuso per diciamo per i trader un po più esperti che magari si aspettavano subito un livello alto di per il coaching però dal momento che appunto con giuseppe abbiamo riscontrato una forte partecipazione comunque anche dei neofiti abbiamo diciamo risultato opportuno rimarcare un pochettino quelle che sono proprio i concetti base che ovviamente che non siano le trend line o comunque le medie mobili per il discorso insomma per le motivazioni dette voganzi e quindi bene o male oggi andiamo a concludere con il money management ricordiamo che comunque abbiamo spiegato l'altra volta il concetto di pattern e il concetto di oggettività abbiamo spiegato nelle volte precedenti da che cosa nasce diciamo il trading quindi che cosa sono gli strumenti derivati che cosa sono e che cos'è il forex che cosa è un cambio valutario che cos'è una materia prima quindi sono tutti i concetti base che magari spesso nelle mie varie conferenze ho ripetuto e molti che molti mi sono complimentati proprio perché non sapevano fare le definizioni non infatti quello che comunque dei casi spesso mi spaventa e mi meraviglia come mai c'è gente che comunque già attrata sui mercati quindi utilizza gli strumenti di trading e non conosce questo genere di base a mio avviso già conoscendo una definizione di un contratto per differenza un contratto futures un derivato a mio avviso già si fa un buon 40 per cento del lavoro cioè in base alla conoscenza del sottostante andiamo fondamentalmente dopo a sviluppare quella che una strategia poi ovviamente abbiamo quindi partendo appunto da queste basi abbiamo criticato ciò che non andava bene abbiamo siamo sorvolati su quello che appunto a mio avviso non è importante comunque sapere o quantomeno sorvolare e ci siamo soffermati appunto sul concetto di pattern di oggettività e abbiamo fatto anche un riassunto su sugli indicatori insomma linea generale già per la prossima volta vi anticipo che se non lo avete scaricatelo potete farlo anche tranquillamente da una qualsiasi pagina io ad esempio prima sono andato su best metatrater indicators ma ci sono tante altre insomma fonti gratis dove potete scaricare gli indicatori uno di questi sarà l'alf trend ve lo scrivo in chat il diciamo il nome di questo indicatore ve lo scrivo in in maiuscolo al trend dove fondamentalmente questo indicatore sarà un po il mantra della nostra strategia parleremo molto del trends following quindi segui della famosa frase segui il trend in modo tale che comunque utilizzeremo appunto degli strumenti degli indicatori che saranno favorevoli al breakout e saranno quindi favorevoli appunto alla ricerca dei trend anche a livello prettamente intraday quindi lavoreremo molto sulle operazioni che si aprono e chiudono in giornata quindi trading come trovate scritto sui libri dei trading quindi operazioni che si apre e si chiude in o in poco tempo al massimo in poche ore comunque non come si dice non passa la notte quindi la si chiude in serata l'operazione in generale quindi andiamo a lavorare diciamo su questo e però prima di lavorare su questo è doveroso parlare un pochettino del money management il titolo è il segreto per non bruciare il conto trading se ovviamente citando pure una risorsa che io dico sempre quando si fa un corso trading si abbinano sempre dei buoni libri io consiglio sempre il libro di andrea hunger trattato di money management dove lì è spiegato in maniera piuttosto approfondita ma anche comunque un po più rinnovata rispetto a precedenti trattati fatti comunque da gente come Larry Williams in generale che già nei primi anni 2000 aveva provato diciamo a scrivere dei libri trattando molto la disciplina del money management e che è comunque una disciplina molto molto complessa che purtroppo non bastano un webinar ma nemmeno 10 webinar per comunque spiegarla nello specifico perché comunque quello che vi faccio un esempio molto banale molto calzante ecco alla situazione è proprio il fatto che è stato dimostrato che tirando una monetina 50 e 50 andando quindi con il 50 per cento delle possibilità di andare a guadagnare accoppiando diciamo a questo lancio della monetina quindi testa magari andiamo log e croce andiamo short uniamo un buon money management riusciamo anche a guadagnare sui mercati finanziari il problema è che avendo soltanto il 50 per cento delle possibilità di guadagnare ci giochiamo fondamentalmente la sopravvivenza sul lungo periodo perché sul lungo periodo non andremo né a perdere né a guadagnare e mano a mano andremo a diciamo a erodere il capitale per il semplice fatto che perdiamo sulle commissioni e sui costi impliciti del trading che sono ovviamente gli slippage che magari durante le notizie possono capitare o comunque dei casi appunto le commissioni che il broker ci applica comunque ecco siamo con tic mille che è il migliore per quanto riguarda l'applicazione delle commissioni perché in più con il link che io vi posto sempre in chat potete tranquillamente avere anche un ulteriore sconto quindi bene o male questi costi incidono molto molto poco però incidono comunque io dico sempre se uno riuscisse a risparmiare per ogni eseguito un euro e metti caso insomma a fine anno facciamo anche mille eseguiti avete risparmiato mille euro quindi che magari nel breve periodo in un mese possono sembrare pochi ma sul lungo periodo quindi almeno su un anno è un costo che comunque dei casi va incidere molto e quindi capite da soli che il lancio della monetina purtroppo sul trading non ci porta non ci porta lontani non ci porta diciamo a guadagnare rimaniamo vivi sul lungo periodo perché magari non azzeriamo il conto ma comunque dei casi serve un qualcos'altro però è stato ridetto appunto che unendo solo un po di money management riusciamo comunque a guadagnare perché dov'è che andiamo fondamentalmente a guadagnare andiamo a guadagnare quando ad esempio in una serie infinita di lanci non è che c'è un'alternanza c'è uno esce testa uno esce croce e si alternano così all'infinito sul lungo periodo potrebbe anche darsi ma succederà che comunque ci saranno tante serie consecutive in cui uscirà la testa e tante serie consecutive in cui uscirà la croce e nel momento in cui se la ad esempio la serie consecutiva favorisce la testa rispetto alla croce e noi stiamo puntando fortemente sulla testa nel momento in cui magari andiamo a applicare il money management nella serie diciamo positivo a favore riusciamo a incrementare più che del dovuto diciamo il nostro capitale e lo stessa cosa se noi riuscissimo a decrementare la perdita nel momento in cui c'è il momento sfavorevole diciamo quindi massimizziamo il guadagno minimizziamo la perdita e quindi arriviamo sul lungo periodo che nonostante abbiamo un 50 per cento di possibilità di guadagno spostiamo magari l'ago della bilancia verso un 52 53 per cento che ci porta così a sfavore soltanto il 47 per cento delle possibilità e se i costi ad esempio incidono per il 3 per cento quantomeno noi abbiamo scongiurato qualsiasi tipo di perdita questi sono calcoli molto alla buona che comunque nei casi non sono verità assoluta ma comunque senza parlare di nessuna strategia vi ho dimostrato con quattro numeri come in realtà solo il money management riesce bene o male a gestire al meglio la situazione quello che utilizzo io e che fondamentalmente consiglio a chi fa un trading di tipo discrezionale quindi che gli ordini li mette lui sono diciamo delle delle regole ed è una gestione in anti martingala da non confondersi ci tengo a sottiglionarlo perché non voglio che si faccia confusione con dei termini so che ci sono dei trader che comunque legati sponsorizzano delle tecniche in anti martingala che nulla hanno a che vedere con la gestione anti martingala del proprio conto trading la gestione in anti martingala viene detta semplicemente che all'aumentare dei guadagni si aumenta diciamo proporzionalmente l'esposizione al mercato al diminuire dei guadagni quindi all'aumentare della perdita si diminuisce l'esposizione al mercato quindi che cosa vuol dire si mette il turbo quando si inizia a guadagnare quindi ci esponiamo un po di più mettendo in discussione i guadagni del mercato presi dal mercato quando invece siamo in perdita tendiamo sempre a ridurre l'esposizione al mercato quindi il nostro rischio e ovviamente come puoi fare un discorso del genere semplicemente lasciando fisso il rischio percentuale sul conto quindi senza andare troppo nel tecnico prima con giuseppe in diciamo in back office parlavamo un pochettino dei fogli excel in generale se avessi diciamo avuto intenzione di farli io sinceramente lo volevo fare ma diventa diventava diciamo un webinar troppo lungo e troppo pesante perché intervenivano formule intervenivano concetti matematici più complessi che a me piace spiegarli invece in maniera molto 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 più semplice marco a me piace molto il il discorso dell'anti martingala e sono perfettamente d'accordo e mi colgo l'occasione per far vedere un my fx book che stavo spulciando adesso proprio per far capire un po la potenza dell'anti martingala allora vediamo se marco se me lo permetti è giusto per far capire quello che signore padrone giuseppe quindi assolutamente allora vediamo se questo qui è un conto che dove ovviamente è un conto test dove vengono fatte delle delle prove e appunto questo io l'ho chiamato piramide proprio perché per un approccio che marco spiegava in anti martingala quindi marco che cosa ha detto quando le cose vanno bene ovviamente si aumentano le le posizioni quindi l'esposizione in modo da aumentare i guadagni quando le cose vanno male ovviamente si si diminuisce la size un approccio del genere secondo me comporta solo un problema per il trader ovviamente ci sono dei periodi in cui magari ci sono una serie infinite di loss come ad esempio su questo conto e ci sono 530 trade ma se andiamo a analizzare lo storico solo in pochissime giornate con questo tipo di approccio si è riuscito a massimizzare il profitto quindi un approccio del genere secondo me marco è buono però comporta anche un una certa tenuta psicologica da parte del trader non so se in chat siete d'accordo però ci sono moltissime strategie in anti martingala dove ovviamente quando parte e sono soprattutto indicate per le situazioni di trend di forte trend però che cosa succede che quando ovviamente il trend non parte quindi sulle grosse sulle grosse fasi laterali si si soffre molto e quindi volevo un attimo condividere questa esperienza su questo conto dove praticamente su 530 operazioni praticamente soltanto 4 alla fine hanno generato quel profitto che vedete qui sul conto e poi il resto sono state un po' tutte perdite quindi ci sono approcci approcci in anti martingala e sicuramente bisogna comunque sempre eh tener conto che secondo me è poi questa è una mia opinione personale quando c'è un approccio del genere in anti martingala si soffre molto sulle fasi laterali non so marco se sei d'accordo assolutamente sì e ad esempio approcci del genere io non li consiglio mai sul forex ad esempio perché comunque prettamente parlando in termini generici è perché un mercato che viaggia spesso in laterale quindi come si dice se hai un buon money management quindi se il tuo rischio di anti martingala è veramente basso per basso intendo lo 0 10 per cento del conto lo 005 per cento del conto allora in quel caso lì ti dico di sì perché comunque supponendo che facciamo appunto 500 trade magari in sei mesi in un anno e magari che ne so l'ottanta per cento vai loss dobbiamo fare in modo che quell'ottanta per cento che vai loss anche magari in maniera piuttosto costante e consecutiva non deve andare a incidere per lo più del 10 per cento sul nostro conto perché sennò a livello psicologico diventa veramente frustrante perché immaginate voi di mettere un sistema che vi fa appunto 500 mille trade di cui su 500 400 sono il loss e solo 100 vanno a guadagno e magari di 200 qualcuno guadagna poco e gli altri invece guadagnano in maniera piuttosto esponenziale psicologicamente è un una mazzata veramente perché comunque non come si dice non a mio avviso in pochi sanno reggere tutta la struttura e soprattutto se lo si fa indiscrezionale perché già un trader che in una giornata prende tre o quattro loss la quinta operazione non la fa e magari è quella è quella buona e quindi è diventa un cioè diventa veramente una lotta contro contro se stessi e qui c'è stefano che dice non sono d'accordo non svuota conti è uno svuota conti sì esattamente se tu non lo sai gestire per quanto quello che dicevo prima invece appunto gli approcci in anti martingala per distinguerci un po tanto comunque siamo in una sorta di gara quindi vi vorrei un attimino senza ovviamente denigrare nessuno è un puro confronto diciamo la gestione anti martingala classica con quella che più comunemente alcuni trader perché non non è che ne ho visto uno in particolare che lo usa ma ce ne sono diversi magari e ce n'è qualcuno che è più famoso perché magari è in tv o comunque un po più esposto come personaggio pubblico ma magari altri lo utilizzano in maniera piuttosto simile sono meno conosciuti vi dico qual è la vero curiosità diciamo di quello diciamo di quello quell'approccio rispetto all'anti martingala classica che quel tipo di approccio prevede che comunque tutto il vostro conto sia fondamentalmente la lo stop loss in generale e quindi se voi avete un conto da mille euro mille euro il vostro stop loss seconda cosa non prevede uno stop loss in macchina perché comunque le casi va lasciato a fluttuare nel durante l'operatività e soprattutto prevede un incremento delle posizioni che la meta trader 4 riesce a fare in maniera piuttosto cioè non non efficiente ecco cosa che invece magari altre piattaforme riescono a gestire magari un po meglio però il problema qual è il problema che se non becchi quello che è il trend della vita quindi non becchi comunque o quello strumento che è particolarmente direzionale o quella fase di quello strumento che è particolarmente direzionale prendi stop su stop su stop e se appunto il tuo stop loss diventa tutto il conto perché magari sfrutti molto la leva e poco il discorso del rischio rischi di bruciare i conti su conti su conti ed ecco che diventano svuotaconti e invece la gestione anti martingala classica prevede semplicemente che tu hai la tua strategia di trading supponiamo che la nostra strategia di trading sia molto molto semplice che ne so ogni mattina alle 8 su euro dollaro apriamo un trend long e lo chiudiamo alle 10 nel mattino non vi sto dicendo stupidaggini o generalmente le mie strategie si basano per il 50 per cento dei casi con questo tipo di logica cioè non vanno a cercare altre cose strane quindi abbiamo una logica molto semplice alle 8 del mattino euro dollaro prendiamo bene sono una posizione al rialzo e alle 10 del mattino la chiudiamo se noi utilizziamo un rischio fisso su questo tipo di strategia che quindi è equivale anche a dire l'ho sparata adesso a caso quindi mi vale a dire appunto ogni volta che alle 8 del mattino tiriamo una monetina esce testa andiamo long esce croce andiamo short abbiamo le 8 e chiudiamo alle 10 utilizziamo una gestione del rischio con un rischio fisso dello 0 50 per cento del conto quindi facendo una sola operazione al giorno quindi ci ritroviamo che facciamo 20 o 20 barra 21 operazioni mensili e ogni ogni operazione che noi andiamo a fare lo andiamo a fare tutti i giorni in base al nostro metodo e noi ogni volta guadagneremo perderemo lo 0 50 per cento in questo caso quando avremo le condizioni a favore lo 0 50 per cento si cumula sui guadagni ottenuti quindi supponiamo che abbiamo una serie di positiva di 15 trade consecutivi in guadagno e vi dico che tranquillamente può succedere comunque non sono numeri astrosi insomma sono numeri piuttosto tranquilli insomma piuttosto reali e andremo che ci ritroveremo con un'esposizione di lotti un po più elevata rispetto alla partenza proprio perché abbiamo beneficiato di quello che è l'interesse composto il rinvestimento degli utili e quindi l'aumento del capitale di partenza che magari che ne so da mille euro è diventato mille due ad esempio e quindi utilizzeremo il lotto che abbiamo utilizzato a mille euro non sarà più lo stesso che utilizziamo con 1200 euro di capitale quando invece inizieremo a perdere il lotto tenderà a ridursi perché più si riduce il capitale e più si riduce il lottaggio il rischio rimane sempre allo 0 50 per cento e si auto adatta al capitale che che diciamo disponiamo in quel momento questo a mio avviso è una migliore gestione per un trader discrezionale cioè che mette lui gli ordini in modo tale che tu dici una volta che hai perso il 50 lo 0 50 per cento del conto in una giornata ti fermi perché comunque hai raggiunto il massimo stop loss e stiamo parlando dello 0 50 per cento che cosa vuol dire questo questo vuol dire semplicemente che per tu poter perdere il 10 per cento del conto devi fare 20 trade consecutivi in perdita 20 trade consecutivi in perdita significa che abbiamo detto un'operazione al giorno fare un mese consecutivo in perdita che è praticamente impossibile perché comunque dei casi su 20 trade almeno qualcuno che va in guadagno ci sta sempre insomma in generale metti caso insomma che siamo in una serie piuttosto sfortunata a 20 non ci arriviamo se già 15 prima nei 30 in guadagno ci sembravano troppi figurarsi menti in perdita quindi in linea generale noi non sarà difficile che in un mese perdiamo più del 10 per cento con il rischio diciamo dello 0 50 per cento al giorno e capite bene che comunque comincia essere un qualcosa di sopportabile metti caso nella nostra tecnica subisce non so un 2 3 mesi di drawdown non possiamo perdere più del 20 30 per cento del capitale vuol dire che abbiamo tra il 70 all 80 per cento del nostro capitale per poter ripartire tranquillamente quindi a livello psicologico non ci comporta un granché cosa che comunque nei casi quindi un'operatività molto più ridotta anche perché io dico sempre che il mercato non è che offre pasti gratuiti e non è che li offre tutti i giorni cioè ci sono delle operazioni che danno un vantaggio rispetto in una giornata rispetto a un'altra ma non le danno tutti i giorni quindi ergo sono poche le occasioni di trading che sono effettivamente profittevoli quindi a mio avviso fare un dei trading troppo spinto quindi a livello scalping che comunque prevede 20 30 40 100 seguiti al giorno a avviso non ha senso e invece ha più senso fare poche operazioni una o due mirate e se ci sono ovviamente perché poi magari ci sono operazioni giornate che in cui passate il tempo davanti al monitor e l'unica bravura che dovete dimostrare è di non entrare al mercato se non ci sono segnali se ti interrompo quindi sulle strategie che poi andrai a proporre mi sembra di capire che il tuo approccio sarà in anti martingala con uno stop con un rischio dello 0 50 per cento giusto esatto in anti martingala nel senso che avremo un rischio fisso dello 0 50 per cento e andremo a modulare il lotto in maniera automatica sul nostro conto nel senso andiamo a guadagnare quanto guadagnavo lo 0 50 in più quindi vuol dire che il nostro lotto sarà lo 0 50 per cento in più rispetto al precedente quindi supponiamo che siamo entrati con lo 0 0 10 vuol dire che il prossimo a prossima operazione sarà con lo 0 0 11 ad esempio perché comunque abbiamo incrementato dell'1 per cento e quindi vuol dire che magari ogni due operazioni da 0 50 che vanno in guadagno aumentiamo 1 0 0 1 il lotto se siamo partiti dallo 0 10 ad esempio questo è quando perdi vai a toglierlo giusto decrementiamo esatto decrementiamo in base al capitale che abbiamo quindi il rischio fisso sul capitale e quindi gestione di tanti martingale questa è una gestione totalmente automatica del nostro conto altra cosa sfatiamo un altro un altro mito il mito della martingala allora la martingala spiegata in termini molto semplici nasce nei casinò e a questo tipo di detto un fulmine non non casca due volte sullo stesso punto quindi se è vera questa affermazione significa che se abbiamo puntato sul rosso e non è andata riportiamo il doppio della puntata sul rosso al prossimo giro perché sicuramente succederà questo evento cosa che questo diciamo va bene quando le operazioni hanno memoria quando invece le operazioni non hanno memoria non c'è assolutamente senso e quindi si brucia il conto nel giro di 6 o 7 operazioni quindi in maniera piuttosto veloce la martingala è pericolosissima perché comunque nei casi ci porta a esporci più del dovuto più di quello che ci possiamo permettere e quindi andiamo utilizzare una leva di conto una leva operativa una leva di rischio talmente elevati che già dalla sesta alla settima operazione praticamente non non siamo più in grado di poter diciamo entrare al mercato lanciamo un sondaggio marco scusa se ti interrompo in chat utilizzate di più un approccio in marting quanti di voi utilizzano un approccio in martingala e quanti di voi invece in anti martingala vediamo se c'è qualcuno che utilizza così ti faccio anche un po' espirare Stefano con il suo commento credo che non sia molto d'accordo con l'anti martingala perché per lui è uno svuota conti però poi sempre dipende anche dalla dall'approccio infatti lo ribadisce anti martingala nessuno quindi presumo Andrea che tu vada diciamo a sentimento sul mercato oppure utilizzi dei lotti fissi ecco qui perché non fare una martingala molto leggera infatti quella penso che sicuramente ha letto la nostra slide e ci dice la martingala controllata questa martingala controllata io non sono molto d'accordo su questo sull'affermazione che sul forex sia meglio fare martingala perché comunque il prezzo ritorna sempre sui propri passi non sono molto d'accordo però accetto ovviamente la spieghiamo Giuseppe la spieghiamo allora adesso non mi convincerai mai anche perché no solamente spieghiamo perché hai ragione a dire questa cosa perché io sono d'accordissimo con te e spieghiamo appunto questo discorso della martingala controllata che praticamente o meglio diamo questo nome dai martingala molto leggera di Antonio Cardello gli diamo proprio un bel nome se magari un giorno uscirà un libro Antonio che ha di diritti allora per quanto riguarda la martingala controllata che io la chiamo in questo modo lo prendo in prestito diciamo da un video però dopo dobbiamo fare l'esempio su euro dollaro perché voglio capire che tipo di martingala si poteva fare su euro dollaro allora la martingala su euro dollaro non si può fare quindi ti boccio già l'esempio ma molti molti l'hanno fatta molto proprio su euro dollaro altri io so che forse funziona meglio su cross tipo audi cad allora diciamo subito la spiegazione quantitativa e vi dico perché non può mai funzionare una martingala controllata sul forex allora tempo fa io mi sono preso un bel programmino me lo sono creato da solo con il mio caro amico Claudio Sesto che mi programma diciamo le cose nel senso io imposto la programmazione lui la chiude perché è un programmatore molto bravo molto capace e mi dà una mano a finire i miei sistemi automatici che tra l'altro saluto abbiamo creato un sistemino che è un seasonality ovvero compra e vende ad ogni candela questo cosa serve questo diciamo ragionamento serve a capire se ci sono delle continuità da parte di alcuni strumenti sappiamo tutti che sulle piattaforme forex abbiamo un infinità di dati siamo andati a calcolarlo e praticamente non abbiamo trovato continuità sul forex c'è il vantaggio che il forex da quindi un profit factor di 1 0 3 1 0 4 quando dice bene sul lungo periodo ed intendo almeno 10 anni di storico e come mi ricollego adesso la martingala controllata che se tu hai uno storico facciamo un esempio abbastanza ampio che dice solita tecnica che abbiamo detto prima alle 8 del mattino su euro dollar abbiamo la posizione long se esce testa o la posizione short se esce croce e alle 10 del mattino la chiudiamo bene se da questo storico emerge su almeno dieci anni che ogni tre operazioni ad esempio la quarta va il loss e la quinta riprende a guadagnare allora lì possiamo applicare la martingala controllata perché abbiamo uno storico a favore che ci dice che su euro dollaro ogni quattro operazioni una perde e la quinta di guadagna e allora noi sulla quinta operazione andiamo a raddoppiare la sites ma perché andiamo a fare questo perché abbiamo uno storico che comunque dei casi ci conferma questa cosa altrimenti se noi non abbiamo questo tipo di dato a mio avviso andare a fare una martingala controllata su un qualsiasi strumento è un suicidio per il semplice fatto che non c'è nessuna legge per la quale ci dice che dopo tot operazioni la quarta o la quinta abbia un tipo di andamento può andare tranquillamente in loss come andare in gain quello che ho praticamente il vantaggio che ho scoperto cioè ovvero che non ho scoperto e che sul forex un effettivo vantaggio a livello di stagionalità o comunque a livello di fasce di continuità non c'è quindi se non c'è sulla serie storica non la puoi cavare nemmeno con una tecnica quindi tu tu parli però ovviamente di un'operazione con lo stop no giusto tu nel senso che lo stop loss noi l'abbiamo detto prima lo stop è temporale alle 10 dove sta sta chiudiamo una nostra operazione ma io intendo un altro tipo di approccio in martingale che vedo molto che vedo che fanno in molti cioè non so ad esempio su questo trend io entro short qui dove ho messo la linea rossa per dirti non lo so 001 mi do una non so dico ogni 200 pip vado a o raddoppiare molto in maniera cruda la size oppure aumento la size progressivamente nel senso che qui sono entrato che ne so 0 10 no qui qui entro a 0 15 qui entro a 0 25 qui 0 50 in modo tale che prima o poi al primo ritracciamento riesco a chiudere riesco a chiudere non so appena arriva il mio prezzo medio di carico quindi la strategia che vedo molto che viene fatta da molti trader è quella proprio della di andare a ricercare di migliorare il prezzo medio di carico perché convinti che poi sul forex il prezzo ritorni sempre su sui propri passi e quindi quella domanda che prima ti avevo fatto è secondo te può funzionare un approccio del genere soprattutto su delle dei cambi come euro dollaro su dove è partito un trend da 1 0 5 arrivato fino a 1 e 25 allora no ti rispondo già subito ti dico di no proprio allora prima ho cercato di essere in maniera un po più professionale e rispondere quanti quantitativamente ovvero e ti ritorno a ripetere che se non abbiamo uno storico che conferma che che ne so se parte un trend questo trend misura e magari lì gli appassionati di fibonacci magari che amano misurare il trend possono tranquillamente utilizzarlo magari dire che ne so ogni talvolta che parte un trend arriva al 50 per cento di fibonacci facciamo partire la martingala in nelle modalità in cui tu hai esplicato oppure parte un trend rompe il 25 per cento di fibonacci e partiamo una martingala niente di più sbagliato perché ritorno a ripetere se non abbiamo uno storico perché ci dobbiamo solo esporre in perché quell'altro non è che una mediazione in perdita cioè noi apriamo dei sell e il mercato sale continuiamo a aprire dei sell e il mercato sale ancora e poi ad oggi nemmeno si può fare più legging perché con l'esma se raggiungiamo un tot di percentuale di perdita e il broker ci chiude anche la diciamo la loro operazione in lo stesso che ancora non è attivo nel senso che comunque entrerà però però su tic 1000 no perché poi adesso mi crei 10.000 domande e mi mandano 10.000 poi mail sarà il 50 per cento del margine del della margin call quindi se prima era al 30 per cento adesso è passa al 50 per cento della margin call quindi con margini più ampi non avrete un grosso impatto rispetto a prima però marco la cosa che ti voglio chiedere invece su uno strumento tipo audi cad non so se hai mai fatto dei o anche in chat avete mai fatto delle dell'operatività su questo tipo di strumento ma strumenti del genere così laterali perché secondo te un approccio in martingala diciamo soft come l'ha detto prima non mi ricordo bene il nome è sbagliato secondo te fare un approccio perché guardiamo sbagliato esatto sì ma allo storico lo stiamo guardando innanzitutto ad occhio e comunque strumenti come audi cad nonostante passano ipotizziamo il 70 all'80 per cento del tempo il laterale per carità una gestione del genere potrebbe essere profittevole però ti dico che ai primi quattro loss tu azzeri il conto cioè qui non stiamo parlando di comunque dei casi qual è l'approccio migliore stiamo parlando di sopravvivere sul lungo periodo con le gestioni martingala raddoppia oggi raddoppia domani al quarto raddoppio di azzerato il conto se l'operazione ma il loss perché ti sei esposto troppo hai raddoppiato troppo le slides quindi ecco perché sul lungo periodo sul breve periodo funziona tutto nel training anche la qual casualità però non stiamo qui a fare un percorso di breve periodo siamo qui a fare un percorso di lungo periodo e anche perché immagino che un broker serio molto come tic mil preferisce avere tanti clienti e magari profittevoli sul lungo periodo che appunto generano commissioni piuttosto che avere dei clienti che in quattro sedute cinque sedute sei sedute azzerano il conto proprio perché magari sono convinti anche a livello grafico che quello strumento va in laterale però quella volta in cui va in direzionale te hai zerato il conto perché una gestione martingala comunque ti porta sopra esporti già alla quarta operazione circa il 64 per cento del rischio cioè quindi vuol dire che su quella sulla quarta operazione tu stai rischiando il 64 per cento del tuo conto e quindi vuol dire che se quella quarta operazione va in loss tu praticamente perdi il 64 per cento se la quinta operazione addirittura va in loss pure quella è completamente azzerato perché il doppio di 64 per cento e più del cento per cento e quindi hai azzerato il conto quindi vanno per riassumere al di là della dello strumento su cui si va a tradare che sia un uno uno strumento apparentemente laterale come può essere un cross di cad o un cambio come euro dollaro la martingala comunque eh a tuo avviso non funziona va bene ok va bene una martingala soltanto se abbiamo uno storico tale che ci dà un vantaggio che ci dice come abbiamo detto prima un esempio poc'anzi ogni tre operazioni si guadagna la quarta perde la quinta guadagna se c'è uno schema ripetitivo di questo genere allora ha senso delle volte utilizzare una martingala controllata esporsi un po' di più sulla quinta operazione se magari si ha un vantaggio dell'ottanta per cento dei casi allora in quel caso lì ha senso ma è una martingala controllata quindi vuol dire che magari invece che rischiare lo 0 50 per cento magari rischio 4 per cento su quell'operazione che già è tantissimo e non il 60 al 50 e 40 per cento del conto terminato diciamo questo tipo di diciamo di gestioni che sono le più classiche abbiamo fondamentalmente quella lotto fisso che diceva il nostro amico andrea che lui utilizza fondamentalmente sempre io quello che vi consiglio io la gestione allotto fisso la faccio sempre quando fondamentalmente devo andare a studiare una nuova tecnica cioè sto studiando un nuovo algoritmo una nuova tecnica non so come si comporta non so quello che può combinare la mia analisi e la mia prima applicazione indiscrezionale la faccio sempre a lotti fissi con un rischio comunque controllato cercando sempre di utilizzare un lotto tale che sul mio capitale di partenza non va a incidere troppo sul mio conto quindi sempre con un rischio inferiore all'un per cento il fix invece è diciamo una sorta di griglia per la quale noi ogni tot di guadagni andiamo a diciamo modulare il lottaggio che utilizziamo sul conto faccio un esempio quindi una sorta di mix tra anti martingala e lotto fisso cioè noi partiamo con un capitale supponiamo appunto numeri semplici mille euro decidiamo di rischiare non più di 5 euro per per trade quindi lo 0 50 per cento e diciamo che finché il capitale non raggiunge la quota del 20 per cento di guadagno noi lo smuoviamo il lotto quindi che cosa vuol dire che se l'anti martingala prevedeva che a mille cento euro noi non utilizzavamo più ad esempio lo zero zero virgola cinque ad esempio zero virgola zero cinque ma prevedeva che magari a mille cento si passava allo zero virgola zero dieci ad esempio con la gestione fixed ratio noi diciamo ci diamo un paletto e diciamo che finché non raggiungiamo i mille duecento euro di guadagno noi non muoviamo il lotto nonostante il rischio ci permette di utilizzare un lotto più alto poi che cosa quindi che cosa vuol dire fixed ratio vuol dire che fissiamo una ragione di aumento o di diminuzione del nostro capitale questo per cosa ci comporta ci comporta che se in quel momento stiamo in una fase comunque di laterale dove tante operazioni guadagnano e tante operazioni perdono con il fissaggio bene o male dell'otto in quella fase lì bene o male non subiamo troppe oscillazioni del conto e rimaniamo sempre lì quando il momento in cui invece si tende a guadagnare qualcosa ci si diciamo si aumenta progressivamente ma in minore progressione rispetto al guadagno che stiamo ottenendo quindi faccio l'esempio arriviamo a mille due aumentiamo il lotto ma non è che lo aumentiamo lo raddoppiamo lo aumentiamo ad esempio di uno di un 20 per cento ad esempio perché il nostro conto è aumentato al 20 per cento e quindi aumentiamo al 20 per cento il lotto e lo manteniamo alto al 20 per cento finché non arriva altri 1400 euro quindi non incrementa gli altri 200 euro questa gestione fissa del diciamo della ragione di aumento dell'otto e ci porta fondamentalmente a controllare al meglio il rischio quindi a non subire le troppe perdine che la gestione in anti martingala potrebbe avere e comunque dei casi a modulare comunque anche i guadagni con un fissaggio dell'otto quindi non ci porta a il conto subito a raddoppi facili insomma ma ce lo fa aumentare piano piano in modo tale da mantenerci sempre con come si dice con una razionalità tale che fondamentalmente non ci vengono botte strane di fantasie ecco infine abbiamo la formula di kelly che vi ricordo se vi volete narvela ad approfondire insomma la trovate nei migliori libri insomma di money management ma anche comunque libri matematici e fisici dove fondamentalmente è un pochettino la base per la modulazione di altre tecniche di gestione del denaro io dico sempre che comunque a livello generico fondamentalmente noi facciamo money management quindi gestione del denaro tutti i giorni sia quando andiamo a fare la spesa sia anche quando prendiamo lo stipendio perché immagino che la maggior parte di voi siano comunque dei dipendenti o quantomeno dei professionisti che comunque vivono la propria vita in funzione comunque di quanto guadagnano e ovviamente a meno che non sia dei degli scellerati insomma che si spende di più di quello che si guadagna ma lo sappiamo bene che dopo sul lungo periodo andiamo a finire che non arriviamo a fine mese insomma quindi per evitare questo sappiamo che dobbiamo gestire al meglio nostri le nostre entrate le nostre uscite col money management e quindi con la formula di kelly la formula di kelly semplicemente la soluzione matematica al fine di ottimizzare la gestione del nostro portafoglio in generale che ovviamente cambia al cambiare del portafoglio stesso perché avremo una tipologia di formula applicata sul singolo strumento ma abbiamo come si dice la come si può dire fatemi trovare le parole migliori più che altro abbiamo anche se utilizziamo un gruppo di strumenti quindi comunque è degli diciamo io comunque marco per non interromperti cioè anche a quest'ora comunque la formula magari non entriamo nel vivo per chi volesse poi andarsela a guardare non so se vedete dallo schermo comunque ho girato questo articolo che ho preso dal traderpedia la formula di kelly dove appunto c'è anche l'esempio pratico dove si parla della formula in pratica va a prendere la probabilità di vincita quindi fa poi un rapporto tra vincita media e perdita media quindi marco magari possiamo anche l'abbiamo solo accennata pochi non so se qualcuno in chat la 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 utilizza però appunto per qualsiasi cosa comunque su internet certo e infatti asserivo a questo per approfondimenti perché questa purtroppo non è la sede perché non facciamo in tempo a spiegarla ma tanto non la non la utilizzerai per le strategie giusto quindi no assolutamente quello sì un accenno fondamentalmente per dirvi che se utilizzate un pool quindi un gruppo di strumenti di strategie e che ne so avete delle strategie su euro dollaro altre su audicard altre su vti quindi utilizzate un portafoglio di strumenti la formula di kelly si modula per un portafoglio di strumenti e si modula in maniera diversa rispetto a l'utilizzo di un singolo strumento quindi è questo diciamo il bello e dico sempre di comunque attenzione a come la utilizzate perché è una formula molto pericolosa perché vi porta anche lì se utilizzata male a disporvi troppo quindi il segreto come potete vedere come dicevo poc'anzi nella slide l'ingresso per non bruciare il conto è proprio la gestione del denaro stessa analogia quando siamo a casa per arrivare a fine mese dovete ottimizzare gli ingressi e le uscite quindi controllare le spese e sapere i soldi che entrano in modo tale da poter ottimizzare il vostro stile di vita e le vostre esigenze e stessa cosa va fatta sul training se voi volete avere vita lunga sui mercati finanziari quindi che il vostro conto sopravviva sul lungo periodo dovete fare il money management cioè dovete applicare allo strumento in relazione alla serie storica in relazione al sottostante come si muove oltre che una strategia di base che vi ho fatto gli ho dimostrato prima non essere la parte diciamo la colonna portante ma semplicemente un'ottimizzazione ci porta diciamo il vantaggio sopra il 50 per cento sul mercato quello che invece dobbiamo fare è che se noi abbiamo anche un minimo vantaggio sul mercato supponiamo del 10 per cento ma lo utilizziamo in maniera scellerata con una martingala andiamo comunque a bruciare un conto nonostante la strategia è buona invece per sopravvivere sul lungo periodo è quello che è importante torno a sottolineare e che non dobbiamo esagerare con le esposizioni controllare il rischio e quindi fare una gestione più di buon senso alla fine per quanto riguarda la gestione dei guadagni e delle perdite del nostro conto trading per concludere quindi andiamo un attimino a dire che cos'è il risk management e il position sizing il risk management altro non è che la gestione del rischio perché per ora abbiamo parlato della gestione diciamo dei soldi abbiamo detto che in base al conto che abbiamo in base allo strumento che tradiamo andiamo a strutturare il nostro money management vi lo anticipo utilizzeremo una gestione anti martingala che prevede comunque dei casi un rischio fisso non prevede la piramidazione delle posizioni assolutamente no semplicemente una gestione del rischio fisso ovvero rischiamo lo 0 50 per cento del conto massimo per ogni operazione quindi che cos'è appunto questo risk management semplicemente è la gestione del rischio cioè per definizione intendiamo appunto traduzione gestione del rischio ovvero gestione delle operazioni che andiamo a porre in essere in base al presente ea l'immediato futuro come si stima il rischio semplicemente dobbiamo conoscere e la serie storica diciamo del del nostro strumento quindi come dicevamo poco anzi con giuseppe diceva audi cad è uno strumento laterale benissimo è palese se uno ha un qualche strumento semi automatico automatico che può confermare questa questa teoria lo andiamo strutturare su una serie storica andiamo osservare come si è comportato nel passato per con questi marci un livello di rischio di quello strumento come si stima un livello di rischio semplicemente andando a vedere come si muove durante il giorno cioè quanti pips fa praticamente quello strumento per potere se ad esempio euro dollaro si muove di facciamo ad esempio 50 pips al giorno per poter io tenermi basso con il rischio che cosa posso dire posso dire che magari io non rischio più di che ne so 5 pips per ogni operazione c'è il 10 per cento della giornata ad esempio oppure non pretendo di guadagnare più del 10 per cento della candela giornaliera questa è una gestione del rischio sia in guadagno che in perdita il position sizing anche qui insomma ce ne sarebbe da dire tanto è semplicemente il lottaggio con cui io mi intendo diciamo operare a mercato ovviamente è una conseguenza del money management e del risk management perché il lotto altro non è che il risultato matematico in base al modello di money management che ho deciso di utilizzare e in base al tipo di rischio che ho deciso di utilizzare quindi tornando al nostro discorso abbiamo detto che utilizziamo una gestione anti martingala quindi se il conto sale mantenendo fisso il nostro rischio aumentiamo un lottaggio all'aumento del capitale però non piramidando le operazioni ma semplicemente per ogni operazione abbiamo il segnale dobbiamo porre la nostra operazione bene la poniamo in essere ma con un lottaggio commisurato al capitale se il capitale è cresciuto aumentiamo il lotto se il capitale non è cresciuto anzi abbiamo perso qualcosa decrementiamo il lotto quindi il position sizing altro non è che una conseguenza del nostro calcolo chiamiamolo matematico statistico del nostro rischio in base al modello di money management e quindi allo strumento che abbiamo utilizzato come si stima ovviamente dobbiamo vedere lo strumento che prendiamo se abbiamo detto che utilizziamo lo 0 50 per cento del conto quindi vogliamo porre in essere un'operazione su euro dollaro abbiamo un conto di mille euro vuol dire che non rischiamo più di 5 euro per ogni operazione quindi supponendo che dobbiamo porre in essere un'operazione che preveda uno stop da 10 pips bene quello stop di 10 pips non deve superare i 5 euro sappiamo che un lotto intero di euro dollaro vale 10 dollari a pips quindi vuol dire che 10 pips sono 100 dollari a lotto pieno saranno 10 dollari a mezzo lotto e quindi utilizzeremo un quarto di lotto massimo per quel tipo di operazione tutto chiaro fino qui sì marco molto chiaro io tra l'altro voglio solo aggiungere una cosa facciamoci sempre anche aiutare dalla diciamo tecnologia e visto che comunque utilizziamo la metatrader 4 c'è un bellissimo strumento che ci fornisce my fx book dove possiamo controllare sempre il nostro il nostro rischio è in particolare io consiglio sempre di monitorare attentamente il proprio rischio rovina della strategia e quindi di avere un rischio rovina abbastanza alto come ad esempio in questo caso dove su questo conto per bruciare questo conto io dovrei prendere un 570 operazioni consecutive in loss per avere il cento per cento di perdita su questo capitale o per perdere il 10 per cento su questo conto dovrei prendere una serie negativa di di loss del di 57 operazioni quindi questa cosa senza fare calcoli estusi non devo fare nessun tipo di calcolo me lo calcola già my fx book quindi il mio suggerimento proprio che do sempre comunque ci ho fatto anche poi un webinar che potete vedere sempre su youtube nella playlist di tic 1000 e di calco di tener conto conto del vostro rischio rovina di tenerlo costantemente monitorato marco non so hai cos'altro raggiungere giuseppe allora guarda più che altro allora abbiamo detto di scaricare l'alf trend e vi consiglio appunto di aprire un conto trading perché dagli prossimi webinar saranno a sfondo completamente operativo quindi saranno molto penso contenti chi già conosce le basi del trading perché passeremo proprio a livello operativo entreremo nella fase operativa del nostro diciamo del nostro percorso quindi vi dirò brevemente nel prossimo webinar come io creo una strategia stefano diceva era ora e lo so stefano però devi pazientare perché comunque dei casi ci sono diciamo persone che purtroppo non sono avanti come magari lo sai tu e quindi hanno bisogno comunque di un supporto maggiore quindi è preferibile che magari spendiamo un tre quarti d'ora di webinar in più eh per una persona che comunque dei casi ha delle lagune da colmare in modo che tutti quanti con un bel gruppetto unito andiamo fondamentalmente a pari passo e quindi andiamo tutti quanti eh a raggiungere l'obiettivo di quello che è il nostro percorso che è fondamentalmente quello di eh arrivare appunto a eh creare una vera e propria strategia vi dico che il prossimo webinar sarà importantissimo perché vi dirò le basi tutto ciò che serve sempre ovviamente per mio avviso per creare una strategia ovviamente uguale profittevole purtroppo non sempre così non sempre tutte le strategie che creo io o comunque che vengono create sono profittevoli anzi vi dico la maggior parte delle volte ogni volta che ho avuto un'intuizione una buona idea l'ho messa in essere e e e e e inizialmente perdeva poi eh mano a mano bisogna lavorarci su bisogna modellarla in generale e vi dirò bene o male quelle che sono le basi per poterla creare o almeno quelle che sono per me le basi per poter creare fatto quello eh non avrete più bisogno di nulla per il semplice fatto che eh già sapendo modulare quei quattro concetti base che servono per creare la strategia uniti al money management uno già sa tutto ciò che deve sapere al fine di essere indipendente al mercato. Marco io ti dico che già ho creato il conto su MyFXbook eh non per vedere quanto siamo bravi ma solo per avere un riscontro statistico e per vedere appunto i parametri che ho detto come rischio rovina e quant'altro quindi invito anche voi aprirvi il conto con con Ticmill di collegarlo a MyFXbook e quindi nei prossimi non non credo nel prossimo perché Marco se abbiamo capito spiegherai la la le basi però gli altri magari saranno anche proprio operativi con degli esempi eh sempre didattici con delle operazioni e quindi poi ci andremo a confrontare su dati e non eh non quindi su su cose astratte quindi andremo a vedere eh perché magari un setup non ha funzionato in un determinato momento e vedremo che statistiche tireremo fuori quindi eh invito tutti nella nella chat ad aprirvi il conto con Ticmill ad agganciarlo con MyFXbook e poi a confrontarci anche con eh sul gruppo che abbiamo creato ad hoc su Facebook che eh ve lo giro quindi mi invito ad iscrivervi a questo gruppo dove poi parleremo appunto di queste di queste strategie esatto Giuseppe quindi eh vi aspettiamo insomma nel gruppo vi aspettiamo comunque eh operativi perché appunto ripeto settimana c'è la fine mese ci sarà un primo webinar che comunque le case spieghiamo le basi per creare una strategia che sono appunto quattro concetti veramente molto semplici ma a mio avviso fondamentali dopodiché eh spiegheremo nel webinar successivo che sarà eh qualche giorno dopo eh la teoria della della prima tecnica che fondamentalmente andiamo a utilizzare e eh ovviamente una volta spiegata la teoria abbiamo tutto quanto diciamo un sacco di tempo per poterla applicare io farò delle operazioni Giuseppe farà delle operazioni poi nella volta successiva le andiamo a commentare quindi parleremo appunto di operazioni svolte se sono andati in loss perché sono andati in loss se sono andati in guadagno perché sono andati in guadagno se non ci sono state operazioni spiegheremo il perché non abbiamo fatto quelle operazioni eh e quindi ci sarà tutto un perché insomma sia se faremo faremo se non faremo e qui avete i nostri contatti in chat io vi rimando per l'ennesima volta il il link per poter aprire il conto e perché comunque dai prossimi webinar appunto dal momento che sono operativi eh parleremo di cose operative e quindi sarà eh importante insomma avere un conto un conto training la salutiamo Cristian io vi saluto a tutti lascio la parola a Giuseppe per le conclusioni ci vediamo eh a fine mese grazie Marco allora ehm per ricapitolare quindi vi iscrivete al gruppo Facebook che eh che ho girato vi eh poi aprite il conto training con Ticmill eh lo agganciate al al conto a MyFXbook e poi ci confrontiamo tutti con nei prossimi webinar grazie a tutti e vi auguro come sempre eh buon trading buonasera a tutti e vi auguro come sempre